Hanno segnato la storia con efferati delitti, creando paura ed indignazione, ma anche emulazione in soggetti che volevano imitarne le loro abominevoli imprese. Carnefici studiati ed analizzati da dottori e criminologi, dalla personalità disturbata e dove il confine tra malattia mentale e malvagità sovranaturale sembra quasi essere indistinguibile. Sono loro i serial killer più famosi della storia.